Seconda parte di Punto Sport, chiudiamo il capitolo Bari, siamo in compagnia di Filippo Luigi Fasano, il collega giornalista e con Valeriano Loseto, mister del Gravina di cui parleremo fra pochissimo. Parlavamo della crisi del Bari che è in ritiro a Castel di Sangro, fa poco vedremo anche un aggiornamento del sondaggio che abbiamo lanciato questa mattina. Capitolo rinforzi Filippo, si parla di Portanova, di qualche altro? Si è un calciatore svincolato, Palmare di Portanova parla di suo sia per l'esperienza accumulata in Serie A, sia per l'aspetto caratteriale che senz'altro contribuirebbe a dare enerbo al reparto non solo. Portanova stava cercando la sistemazione in Serie A, evidentemente non l'ha trovata, è ferma da alcuni mesi. È una questione anche e soprattutto comunque di assetto, non dimentichiamo che a Vercelli Bari ha giocato senza i due terzini titolari, con Salveato al posto di Sabelli e con Defendi adattato. Evidentemente forse Filippini non è ritenuto ancora pronto per fare vice di Calderoni. Mangia ha cercato più volte la quadratura del cerchio in mezzo, alternando gli interpreti. Io ritengo che nel medio termine optasse per Ligi, Camporese come coppia centrale, però un po' i disagi progressivi di Ligi e un po' le defaianze allo stato fisiche, diciamo ancora da registrare, da sistemare di Camporese, lo abbiano indotto a optare per l'usato non tanto sicuro alla luce delle prestazioni di Contini e Rossini. Va bene, staremo a vedere naturalmente nei prossimi mesi, anche perché il campionato cosiddetto di riparazione è ancora molto lontano, il Bari dovrà andare avanti con questa squadra, almeno fino a Natale. Vediamo intanto un aggiornamento del nostro sondaggio, vediamo gli amici a casa se hanno votato. Vedo che cresce un po' la fascia di Davis Mangia e questo non depone a favore dell'allenatore, perché significa che è considerato fra i responsabili, o quantomeno il responsabile numero uno, prima della società e prima dei calciatori di questo andamento, Valeriano, per chiudere anche il capitolo Bari, secondo te quanto potrà reggere la pressione, la società, l'allenatore perdurando risultati negativi? Io credo che di certo non ancora per molto tempo, il risultato è una medicina migliore, però è anche vero che si è inclinato qualcosa nel rapporto tra la tifoseria barese e l'allenatore, non è stato mai accettato di buon grado sin dal primo momento, queste le motivazioni perché non sta certo a me o a qualcun altro dirle, però è un dato di fatto che comunque non è scoppiata la scintilla tra Davis Mangia e la piazza barese. Quindi tu dici che quella parentesi di vittoria è un po' attutito, però poi ai primi momenti bui è venuto fuori. Ripeto, la piazza barese vuole un obiettivo, se poi magari lo si raggiunge con il Davis Mangia questo non importa, l'importante è centrare l'obiettivo che a tuttora sembra un attimino difficile, però credo che con il lavoro e il sacrificio anche da parte della società non sia un'utopia raggiungere quello che si è prefisso all'inizio della stagione. E allora anche questi risultati, questi momenti difficili fortificheranno Gianluca Paparesta che vediamo alle nostre spalle, un presidente giovane che ha preso in mano la squadra e la società soltanto da pochi mesi e vedremo questa settimana se sarà effettivamente servita per rimettere il Bari in carreggiata. Lunedì posticipo con la Ternana alle 20.30, posticipo della tredicesima giornata, ma adesso restiamo a parlare di calcio, ma tuffiamoci nei campionati del nostro territorio, della nostra regione, parliamo del campionato più importante pugliese, l'eccellenza, quindi il quadro dei risultati in grafica maturati ieri nella ottava giornata, si gioca l'ottava sia in eccellenza sia in promozione, questo è il quadro dei risultati dove spicca il 3-0 dell'Atletico Vieste che ha preso la testa della classifica sempre più saldamente, complice anche il pareggio del Vigortrani, hanno i cattaro contro l'Atletico Mola che in questo momento non dispone del suo stadio, e poi ancora una rovinosa caduta della Libertas Molfetta con il Nardò che è seconda forza del campionato, Libertas Molfetta, squadra formato trasferta, tre vittorie fuori casa, ma ancora nessuna, nessun successo al Paolo Poli, un fatto davvero insolito, e poi via via tutte le altre con lo Sporting Altamura che resta comunque da neopromossa nelle zone alte, e spicca evidentemente il 2-1 del Bitonto contro la Virtus Francavilla, e non a caso anche la nostra grafica è dedicata proprio a Mister di Venere, che nonostante non sia proprio un adone abbiamo voluto omaggiare con questo titolo che la regia ci proporrà fra un attimo, la bellezza di Venere, naturalmente non certo riferito alla Dea Romana, ma a questo allenatore segno, parlavamo di allenatori in grado di trasformare una squadra, il Bitonto ne ho promossi in eccellenza, ha fatto le prime quattro partite con Mister Fino, un andamento un po' altalenante, allenatore non graditissimo diciamo così alla tifoseria, poi si è dimesso, o è stato dimesso, diciamo questo non lo sappiamo, ma tant'è che in quattro partite due pareggi in casa, due vittorie fuori, insomma ha ripreso in mano la squadra, il Bitonto è imbattuto, è lassù vicino allo Sporting Altamura, queste neopromosse, Valeriano, così come in Serie B, danno filo da torcere anche in questi campionati. Sì, lo Sporting Altamura è una squadra che ha vinto il playoff l'anno scorso di promozione, ha avuto modo di incontrarla l'anno scorso, ma è stata una buona impressione, e sta confermando quello che penso. L'anno scorso perché ricordiamolo eri a coraggio, anche se comunque abbiamo vinto e abbiamo perso contro l'Altamura, però ha sempre stato un'ottima impressione lo Sporting. E allora, insomma, in bocca al lupo anche a tutte queste squadre, ma adesso andiamo avanti perché abbiamo tante cose da vedere, allora di questa categoria dell'eccellenza, gustiamoci, ne abbiamo parlato proprio il match, Libertas-Molfetta-Nardò, vediamo. Molfetta-Nardò, una di fronte all'altra, nel giorno in cui si incrociano i sogni d'alta classifica dei Granata e i propositi di risalita dei Bianco-Rossi. Nel giorno in cui Walter Monaco, reduce da due vittorie di fila, si gioca la sua imbattibilità di sette partite. Nel giorno in cui Mauro Lanza, dopo il colpaccio di Altamura, vuole invece cercare la prima vittoria casalinga della stagione. Tutto questo è Molfetta-Nardò, una delle sfide di cartello nell'ottavo turno di eccellenza. La via di gara però non è all'altezza delle aspettative, ci prova subito il Nardò con Rana, l'ex Mola dal limite lascia partire un tiro debole che sporca appena i guantoni di Musacco. Al diciannovesimo minuto la gara si sblocca, Caporale indirizza il cuoio in aria, sulla traiettoria della palla si trova Grazioso che con il petto la spinge in rete. Autogol e il risultato cambia, Molfetta-Nardò 0-1 e Granata sotto il settore a far festa insieme ai tifosi del Toro. La risposta dei padroni di casa è in un colpo di testa di Cesario, bloccato senza patemi d'animo da Picco. Nell'unico minuto di recupero del primo tempo, il Molfetta ha l'occasione per pareggiare, ma l'errore di Turitto, servito dalla nave e da Matita Rossa, l'ex Ostuni, a porta spalancata, spara altissimo, divorandosi un gol clamoroso. Al riposo è 0-1. La ripresa si apre all'insegna delle polemiche. Al quarto, il fischietto catanzarese Fabiano assegna un penalti ai padroni di casa per un tocco di mani sospetto in area salentina. Dal dischietto, la nave spiazza Picco e riequilibra il match. La reazione del Nardo è immediata. Al ventunesimo, De Silvestro, con una fucilata di destro da fuori aria, fa secco Musacco e rimette la freccia. Partita chiusa alla mezz'ora, col colpo di testa di Rana, e con Musacco costretto ancora una volta a raccogliere la palla dal sacco. Al Poli finisce 1-3. Per il Nardo, che continua ad arrampicarsi alle zone alte della classifica, è l'ottavo risultato utile consecutivo. Per il Molfetta, ancora secco di successi interni, è l'ennesimo scivolone, un altalenante avvio di stagione. E dal campionato di eccellenza ci tuffiamo, voliamo, nel campionato di promozione con i risultati del Girone A, abbiamo già anticipato, il Girone A dominato praticamente dal Gravina. Se la regia è pronta, vediamo i risultati in grafica. Dominato dal Gravina, che ha maravaldeggiato contro il Celle di San Vito, 4-1. E poi l'Atletico Corato, stoppato sull'1-1 sul campo della Forti Saltamura, credo prossima avversaria, no, del Gravina? domenica prossima. E adesso vedremo proprio questo servizio. E poi il Giovinazzo, che ha battuto 4-1 la nuova Molfetta, via via tutti gli altri risultati, dove spicca anche la vittoria del Liberty Palo, del neo mister Nino Cipolla, l'allenatore che aveva portato la squadra dalla prima categoria in promozione lo scorso anno. Terzo allenatore, pensate, in sole otto partite, però tanto è servito per conquistare i primi punti della promozione per il Liberty Palo dopo sette sconfitte consecutive. Classifica del girone A di promozione guidato, come detto dal Gravina, ancora punteggio pieno, otto vittorie su otto per la squadra di Valeriano Rosseto, poi il Corato a sei lunghezze, via via tutte le altre fino al Real Bat, superato ieri nello scontro diretto proprio dal Liberty Palo. e allora di questo campionato parleremo fra un attimo con Valeriano Rosseto, prima però vediamoci Fortis Altamura atletico Corato perché interessa anche a Valeriano Rosseto perché l'Altamura sarà il prossimo avversario domenica del Gravina. Vediamo. Il Corato raccoglie un punto d'oro d'Altamura contro la Fortis, d'oro perché costretta a giocare praticamente tutta la gara in dieci uomini e l'ultimo quarto d'ora in nove per due espulsioni contro una squadra, quella morgiana ben messa in campo da Denora. Dopo quattro minuti Di Vincenzo raccoglie il pallone appena al di fuori del limite dell'aria ed è subito rosso. Dentro Camerino portiere di riserva fuori Lomuscio. Al ventesimo il vantaggio dei padroni di casa Cannito mette in aria questo traversone che Giacomelli tramuta in gol con una spaccata in anticipo sul difensore sul secondo palo. Il Corato reagisce subito e trova il pari nel giro di cinque minuti. Silla entra in aria come lama nel burro e viene atterrato. Rigore realizzato da Nicola Di Francesco alla settima rete in campionato nona compresa la Coppa Italia. Nella ripresa ritmi blindi fino all'espulsione di Saragaglia per questa entrata scomposta su Ardino. La Fortis 11 contro 9 prova l'accelerazione decisiva ma il Corato tiene pari giusto. Ora la squadra di Leonino si allontana dal Gravina e sente il fiato sul collo del Biceglie domenica partita importantissima col Barium. E allora pareggio per il Corato 9 contro 11 Corato che procede a fare i spenti loro dicono che lottano per la salvezza parlano di questo e allora se loro lottano per la salvezza il Gravina con chi gioca quest'anno visto che andate a punteggio pieno Valeriano? Noi dovremmo giocare con tutti e ogni partita sarà una battaglia anche perché voglio dire tutte le squadre che hanno giocato contro di noi ci hanno sempre reso vita difficile anche se magari a volte i risultati sono stati un po' eclatanti un po' cospicui a livello di numero di gol però 24 punti su 24 diciamo che avete anche fatto 29 gol aiutami se sbaglio 4 soltanto quelli subiti adesso stiamo vedendo gli highlights del match vinto ieri con il Celle San Vito 4 a 1 tripletta anche del vostro attaccante Scaringella Scaringella ha fatto tre gol quindi avete anche un attacco incredibile una difesa quasi imperforabile credo che gli unici che vi abbiano fatto più di un gol 2 il giovinazzo che era comunque un match difficile quello di domenica scorsa e adesso c'è questo derby perché insomma Gravina Fortis Altamure è un derby come lo sta vivendo la città sicuramente anche le abbiamo già affrontate in Coppa la partita del Sorgio stagionale ad Angelo con la Fortis dove era scaturito 1-0-0 era stata anche fonte di un po' di malumore magari tutti si aspettavano già i primi gol però poi nel ritorno di Coppa abbiamo dimostrato tutto il nostro valore vincendo per 5-0 e quindi poi le vittorie sono come le ciliegi una tira l'altra dispongo di una grossa rossa di un'ottima rossa soprattutto nel reparto offensivo dove non credo che qualcuno possa disporre di Diego Alvano di Daniel Sisali o di Rino Girfone e di questa sorpresa magari per voi o per gli addetti ai lavori che potrebbe essere Michele Scaringera che per me non lo è assolutamente visto che lo alleno già da questo è il terzo anno che lo alleno e credo sia anche capocannoniere insieme a Sabino Terrone del Corato quindi insomma poi voi ne avete tanti nelle zone alte perché 29 gol significa che avete mandato in rete veramente tutta l'artiglieria pesante una squadra una squadra all'altezza ma anche una tifoseria credo all'altezza perché vi seguono davvero in tanti a Gravina assolutamente sì anche a Gravina anche a Gravina c'è qualcosa di incredibile c'è un'alchimia tra la squadra e la tifoseria che ripete qualcosa di incredibile è bellissimo quando magari la domenica giochiamo in casa ci sono 3.000-4.000 persone che ti seguono credo che nessuno possa avere un seguito così in promozione o in eccellenza ora sta solo a noi mantenere e continuare su questa strada e magari riuscire a fare qualcosa di importante adesso viene il difficile o forse anche il bello e allora chiudiamo siamo davvero in chiusura chiudiamo con il Bari visto che abbiamo un ospite che si chiama niente meno che Valeriano Loseto nome che non ha bisogno di presentazioni parto però da Filippo come andrà a finire con il Bari come sarà questa settimana sarà una settimana calda cosa si staranno dicendo adesso giocatori e squadra giocatori e allenatore a Castel di Sangro secondo te sarà una settimana lunga anche perché il ritiro magari sarebbe stato più sopportabile in vista di un impegno a fine settimana non dimentichiamo che il Bari torna a giocare fra i sette giorni e quindi è un'intera settimana da passare bisogna lavorare innanzitutto sulla testa dei giocatori cercando di partire dalle certezze di questa squadra vedendo quali possono essere in questo momento le certezze innanzitutto il centrocampo il centrocampo come siamo abituati a vederlo sin dall'anno scorso magari con Defendi riproposto più avanti in un terzetto con Sciaudono e Romizzi Romizzi è partito anche quest'anno dalla panchina ma anche quest'anno ha dimostrato che è un calciatore da cui il Bari non può prescindere le certezze offensive Caputo e De Luca hanno messo a segno quasi dieci gol in due cercando di capire cosa possono il recupero di Galano come procede un giocatore che ha avuto accusato un problema un infortunio e la ripresa abbiamo visto che non è stata esattamente come era magari nelle mire del calciatore con un fallo piuttosto ingenuo un rigore fra l'altro che il quinto nell'ultime cinque gare un po' da registrare un po' in tutte le fasi soprattutto però sul piano mentale cercando di far stare i giocatori più tranquilli possibili e allora magari si respirerà sia pur accorciando i tempi l'aria del Veneto Valeriano volendo lanciare dare un suggerimento più che un consiglio a Mister Mangia magari lo facciamo arrivare tramite Giovanni Loseto che cosa che cosa cosa diresti a Mangia per affrontare questa settimana e superare soprattutto il momento del Bari io assolutamente non direi nulla perché non sono non sono nella possibilità di trasmettere qualche consiglio a Mangia perché non vivo la situazione e sono un allenatore dilettante spero solo che il Bari possa raggiungere tutti insieme il Bari e i tifosi possono raggiungere tutti insieme con l'obiettivo che sono prefissi ripeto all'inizio stagione questo ritiro servirà per riprendere un attimino le forze e magari già da lunedì sera ritornare a una bella vittoria e noi lunedì naturalmente saremo qui alla stessa ora per parlare del pre Bari Ternana e vedremo con che spirito con che atteggiamento i giocatori si saranno preparati in questa settimana che porterà alla sfida di lunedì prossimo alle 20.30 contro la formazione Umbra ringrazio siamo davvero in chiusura Filippo Luigi Fasano di solobarinews.it un grazie di cuore anche a Valeriano Losseto mister del gravina in bocca al lupo naturalmente per il vostro campionato e io ringrazio come sempre anche voi che siete a casa continuate a scriverci come fate e continuate anche a votare il sondaggio che vi abbiamo proposto in questa puntata è davvero tutto buona giornata ci rivediamo lunedì prossimo arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.